Mi trovo al comune di Luco dei Marsi, sopra strada 45. Strada 45, qui sono circa un chilometro. Invece qui a circa 600 metri abbiamo la strada provinciale, ecco qui, che conduce da Avezzano, Luco dei Marsi, Trasacco, Colo Lungo e Vila Valle Lungo, ed anche ad Ortuccio. Soffermiamoci qui per ammirare la frazione della Petogna, comune di Luco dei Marsi. Il centro abitato di Luco dei Marsi, l'estremo periferia, si trova a circa 3 chilometri da qui. Adesso volevo salire qua sopra, ma ci salgo un altro giorno. E' meglio venire la mattina, perché la mattina le escursioni si fanno meglio. Anche perché adesso comincia a esserci il caldo e la vipera può nascondersi ovunque. Bisogna stare sempre attenti, metterci scarponi e pantaloni brucienti. Comunque il pericolo esce in qualsiasi momento. Ecco la salta in fiore. Vabbè, torno sopra.